La cura delle abitazioni è fortemente semplice, si privilegiano i materiali naturali dai colori tenni. In forno. Prevedeva la sostanzione immediata della patente e multe fino a 1.800 euro. Sono anche 9.000 gli ammendamenti alla manovra che non hanno superato un paio di amministrazioni. A presto. A presto. Grazie per aver guardato il video.